eccoci qui cari amici e cari amiche di total photoshop al microfono e alla finestrella che vedete lì in alto a sinistra c'è il buon max e siamo collegati con matteo oriani direttamente dalla casa della grande a quindi di adobe perché ieri è successo il putiferium abbiamo annunciato matteo l'uscita di questa beta di photoshop cs6 ma si abbiamo fatto vedere alcune cosine e qualche cos'altro lo vediamo insieme a matteo che ci ha preparato un tutorial stra fighissimo ma adesso vogliamo avere proprio una panoramica ufficiale e chi meglio di matteo che è proprio investito di questa carica per presentare photoshop cs6 buongiorno matteo buongiorno max e buongiorno a tutti allora da dove partiamo ma allora innanzitutto come potete vedere qui in questa slide come ha detto max poc'anzi ieri appunto adobe ha rilasciato sul portale labs.adobe.com la versione beta di adobe photoshop cs6 software che ormai è ben conosciuto nel mondo della grafica nel mondo dei fotografi insomma è conosciuto un po un po da tutti ecco in questa sessione noi adesso andremo a vedere un po quali sono le grossissime informazioni che adesso adobe sta rilasciando anche giorno dopo giorno quindi mi raccomando state sintonizzati sul portale labs.adobe.com e soprattutto sul portale adobe.com da dove poi sarà possibile andare a scaricare tutorial tips e quant'altro anche perché sappiamo che photoshop è uno di quei classici prodotti che tengono molto molto vivo gli utenti la fantasia degli utenti le possibilità diciamo che sono praticamente sterminate bene io direi di iniziare come sapete la missione di adobe è quella di andare a gestire al meglio di semplificare la vita un po a tutti i professionisti del settore quindi siamo impegnati a semplificare la vita quindi a gestire sempre al meglio nuove funzionalità ma senza dover impazzire in tips tutorial quant'altro no la semplicità è potenza ma soprattutto semplicità di utilizzo questo che potete vedere un po la macro area di photoshop photoshop si è nato come prodotto ma col passato del tempo è diventata una famiglia dove ovviamente vediamo qui subito all'inizio le due versioni di photoshop photoshop cs6 extended e photoshop cs6 ma poi soprattutto sapete che da poco adobe ha rilasciato anche photoshop lightroom 4 quindi era stato anche lui in pre release per un po di tempo adesso invece è disponibile per l'acquisto e poi soprattutto anche per tutti gli utenti quelli che necessitano diciamo così di estrema semplicità esiste anche adobe photoshop elements che comunque non ha nulla da invidiare a diciamo così ai fratelli maggiori sia photoshop cs6 che photoshop lightroom e poi nella parte sotto vedete un po tutta una serie di strumentini che fan parte sempre della famiglia di photoshop ma la cosa interessante che queste sono applicazioni per tablet sia per ios che per android ovviamente il più importante l'ultimo nato è photoshop touch dove abbiamo praticamente tutta la potenza di photoshop messa su un tablet con tutti gli strumenti e qui vi invito anche ad andare a controllare sempre sul sito di adobe.com tutte le potenzialità di questo applicativo di adobe photoshop touch questo appunto solo un po diciamo così la nuova line up le nuove icone di tutta la famiglia photoshop però per il mercato quello professionale quindi abbiamo detto photoshop touch photoshop cs6 e lightroom 4 questo appunto adesso diamo una carrellata alle principali funzionalità di photoshop cs6 extended sostanzialmente adobe si è impegnata in questi quattro aspetti quindi imagine magic quindi ormai non non diciamo più facciamo questa abbiamo questa funzionalità abbiamo questo tool no tutto è imaging magic quindi la magia della modifica dell'immagine poi fantastici strumenti di creatività e a dir poco qua ha performance incredibili quindi da questa versione photoshop va a sfruttare fino all'ultima risorsa che voi avete nel vostro computer sia che si tratti di scheda video sia che si tratti di processore sia che si tratti di ultimo grido di processore o di sistema operativo quindi andiamo a spremere veramente tutte le performance della macchina e questa ve ne renderete conto quando cominciate a mettere mano su questo fantastico applicativo e poi ovviamente è stato ridisegnato risemplificato tutta la gestione 3d e anche questa è una cosa molto molto importante alla quale adobe ci tiene particolarmente un altro numero giusto per diciamo così rendere l'idea è che non diciamo più adobe non dice più ci sono 100 feature ce ne sono 200 no ce ne sono il 62 per cento di quelle precedenti quindi photoshop cs 5.1 aveva tantissime funzioni bene nella 6 c'è il 62 per cento in più di cui nuove 65 funzionalità della nuova interfaccia comunque delle nuove funzionalità che è stata suggerita dagli utenti tramite i vari portali vari forum di adobe e poi è la prima volta soprattutto che mercury quindi il motore di performance di rendering adesso è stato inserito all'interno di photoshop mercury era un motore che è stato diciamo così sviluppato e concepito apposta per performance per alte performance per il mondo video quindi ricordo premiere ricordo after effects bene ce l'abbiamo anche in photoshop e questo aiuta a abbattere notevolmente i tempi di lavorazione questi sono poi diciamo così i due macro scenari quindi photoshop cs6 e photoshop cs6 extended quindi esistono due versioni quindi come era in passato ci sono tantissime cose quindi photoshop extended ha una gestione avanzata del 3d piuttosto che dei nuovi motori di ray tracing per andare a implementare rendering che arrivano da software di terze parti ovviamente abbiamo le diciamo così classiche funzionalità di photoshop cs6 quali appunto mercury nuovi filtri di sfocatura tutta una nuova serie di strumenti ed algoritmi legati al content aware quindi alle funzionalità contestuali ma soprattutto abbiamo anche la possibilità di gestire i video prima i video potevano essere gestiti solo dalla versione extended adesso invece lo abbiamo nella versione diciamo così normale in photoshop cs6 questo perché perché ormai il mondo riesce a implementare video e fotografie senza nessun tipo di problema basta guardare le macchine fotografiche di ultima generazione tutte sono in grado di fornire video e immagini ad altissima qualità e questo photoshop non poteva essere di meno e quindi anche gli utenti che adesso hanno photoshop cs6 e quindi saranno in grado di gestire tutte le funzionalità al video queste sono le specifiche di installazione quindi vedete che per quel che riguarda piattaforma macintosh quindi piattaforma apple serve un processore intel dal 2006 in avanti supporto dei sistemi operativi dal 10.6.8 in avanti quindi 10.6.8 e 10.7 ma soprattutto per quel che riguarda anche la gestione delle performance utilizzare una scheda video che supporti opengl in maniera tale da andare a avere veramente performance fantastiche per quel che riguarda invece piattaforma windows ovviamente supporto i processori amd e intel ma per quel che riguarda i sistemi operativi ricordo xp service pack 3 e windows con service pack 1 quindi anche qui vedete che abbiamo una vastissima ampia scelta di sistemi operativi supportati adobe photoshop cs6 permette di andare a gestire tutto quello che saranno le nuove funzionalità delle community adobe e di adobe creative cloud per questo motivo adesso è necessario inserire un adobe id quindi adesso tramite questo adobe id si riescono a gestire tutti i propri account tutti i propri servizi legati al mondo adobe in maniera tale da centralizzare sempre di più e in maniera sempre diciamo così efficiente tutto quello che riguarda l'aggiornamento delle patch l'accesso alle community alle documentazioni dei vari software e quant'altro allora matteo panorama molto molto chiaro ci attendono cose straordinarie ma soprattutto sul fronte fotografico creativo abbiamo veramente davanti qualche cosa di assolutamente entusiasmante a questo punto però ti chiedo di metterci ulteriormente alla prova il nostro buon photoshop cs6 per per scoprire qualche chicca in più come sai noi ieri abbiamo già postato alcune alcune piccole demo che abbiamo fatto al volo ma chiaramente la voce più autoritaria non può che essere la tua quindi a te pennelli e strumentini di photoshop ok grazie max innanzitutto come dicevamo poco prima nella presentazione quello un po' più diciamo così a slide ci sono una quantità di feature che sono sterminate quindi ci vorrebbero delle ore per vederle tutte però mi limiterò un po' a ingolosirvi anche con queste simpatiche con queste due o tre cose allora innanzitutto questa immagine la conoscete l'avete vista era un classico file demo che utilizzavamo per quel che riguardava la presentazione delle versioni precedenti quindi sapete benissimo che tipo di file e cosa facevamo bene sappiamo che se noi andiamo a selezionare in maniera rapida un oggetto grazie ai nostri strumenti di selezione rapida riusciamo a identificare in maniera veloce il nostro soggetto bene andiamo a espanderlo quindi selezione modifica espandiamo la selezione magari di un 20 pixel così tanto giusto per fare una piccola prova bene adesso ci posizioniamo sotto lo strumento cerotto teniamo premuto e andiamo a selezionare questo nuovo strumento content aware move tool sostanzialmente questa è letteralmente una magia dove io adesso posso prendere il mio oggetto spostarlo magari di lato attendere che photoshop analizzi che cosa il primo piano dallo sfondo muova l'oggetto e soprattutto vada a riempire la zona che è stata lasciata libera ma la cosa veramente fantastica non è questo perché anche se comunque già questa cosa qui è una cosa che ridefinisce i concetti di grafica di fotografia e di tutto quello che abbiamo imparato fino adesso nell'utilizzo di photoshop ma la cosa fantastica è questa io adesso vado a nascondere la selezione quindi attraverso il comando command o control dipende se utilizzati piattaforma mac o window e la scorciatoia h quindi già vediamo che anche nascondendo la selezione vediamo che photoshop cosa ha fatto non ha fatto nient'altro che identificare lo sfondo scontornarlo automaticamente e adagiarlo sul quello che c'era dietro bene ma la cosa fantastica è questa nella parte superiore vedete che c'è adaption adattamento bene io adesso anche se ho mosso l'oggetto posso chiedere a photoshop di ricalcolare il tutto e di darmi un altro risultato facciamo una prova proprio con i due estremi in maniera tale da forzare l'applicativo e da vedere anche come reagisce chiaramente il risultato ottimale generalmente si ottiene col valore medio però noi abbiamo la possibilità di modificare questa cosa notate che qui invece adesso photoshop ha forzato un po' il vecchio sfondo andiamo nella parte opposta così da vedere che io posso rimodificare una volta che ho fatto il lavoro quindi non devo ripartire da capo basta che cambio l'opzione e lascio che photoshop vada a ricalcolare il tutto vedete in questo caso adesso abbiamo forzato e quindi photoshop ha smangiato ulteriormente il nostro oggetto rimettiamo come in origine in versione media però ci rendiamo conto che qualora io non gestisca bene la selezione posso sempre cercare di salvare la situazione senza dover tornare indietro senza dover rifare il lavoro e questa è una cosa veramente fantastica è una cosa che appunto viene definita come imaging magic cioè praticamente la magia della correzione dell'immagine e questa è una cosa che lascia completamente sbalorditi torniamo invece come era in origine l'immagine e un'altra cosa fantastica che volevo farvi vedere è la performance quindi il filtro la galleria filtri cosa che prima era particolarmente lenta adesso già notate che quando vado a ridimensionare lo zoom già abbiamo le performance che sono cosa dire esagerate ma adesso guardate io cambio filtro tac una frazione di secondo e tutto viene ricalcolato non mi piace questo effetto ok ne scelgo un altro oppure anche l'effetto vetro oppure magari anche la distorsione oceano nessun problema una volta che ho regolato il tutto cosa faccio non faccio nient'altro che cliccare su ok una frazione di secondo e photoshop tac ci ridà assolutamente la nostra immagine finale perché questa cosa? perché se andiamo a controllare all'interno delle preferenze di photoshop sotto la voce performance ci rendiamo conto che io adesso posso andare a gestire al meglio le performance di photoshop quindi vado a utilizzare un linguaggio open gl ma soprattutto posso chiedere a photoshop di eseguire i calcoli grafici su scheda video e questo dà delle performance che sono veramente 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 fantastiche una funzionalità che è stata chiesta a grandissima voce da tantissimi utenti per tantissimo tempo adesso la troviamo sotto la voce gestione dei file seleziono qui zoom così almeno tutti possono vedere adesso photoshop automaticamente è in grado di salvare un file recovery quindi attivando questa opzione e andando a scegliere il lasso di tempo quindi se photoshop deve tenere un suo backup interno ha un intervallo che va da 5 minuti a un'ora cosa succede? se disgraziatamente photoshop cresce lui va a fare il recovery automatico dell'ultimo file memorizzato in un arco di tempo di 10 minuti un'altra funzione che gli utenti avanzati ameranno è questa il salvataggio in background sapete quando fate tantissimi fotomontaggi quindi usate gruppi, livelli, filtri, maschere e quant'altro photoshop ci impiega un po' a salvare il file bene, con questa opzione attiva photoshop andrà a salvare il file in background così facendo io appena do il comando salva file photoshop memorizza e in background salva ma voi siete in grado di continuare a lavorare senza dover attendere che l'indicatore di stato ci avvisi che ha finito di salvare il file queste sono delle cose veramente veramente fantastiche e comunque ricordo che ce ne sono un'esagerazione il 62% di nuove feature in più rispetto alla versione precedente questa è una piccola anteprima poi state sintonizzati su adobe.com e su totalphotoshop.com per avere le ultime novità e gli ultimi tutorial relativi ad adobe photoshop cs6 in versione beta beh Matteo se volevi farci veramente ingolosiere ci sei riuscito a tutto tondo una sola precisazione la demo che avete visto fare da Matteo era sì veloce ma tenete conto che mentre il computer di Matteo stava lavorando su photoshop in background stava lavorando il processore stava lavorando anche per condividere con me che sono dall'altro capo d'Italia tutto questo scenario attraverso adobe connect quindi la macchina non era proprio scarica corretto Matteo? assolutamente sì assolutamente sì guarda faccio anche una cosa di questo tipo torno indietro sulla mia immagine originale per comodità vado a prendere anche il comando monitoraggio attività in maniera tale che potete vedere che senza fare niente il mio processore è attualmente impegnato un'altra cosa molto molto importante è che adesso voglio farvi vedere un altro filtro che va a sfruttare appieno la GPU prima però volevo attendere che monitoraggio attività finisca di caricarsi qualora non finisca di caricarsi noi comunque possiamo procedere ugualmente tanto siamo confidenti che photoshop è sempre al massimo delle nostre performance un'altra cosa importante è sotto filtro è stato inserito un nuovo plugin pittura a olio pittura a olio anche qui è un nuovo filtro è un nuovo ambiente che mi permette di simulare il dipinto a olio quindi qui posso andare a gestire bene tutti i miei effetti e soprattutto appena clicco su ok qualche istante e questo filtro viene applicato alla nostra immagine quindi potete notare che le performance sono veramente veramente ottime soprattutto perché la mia macchina non è una macchina di ultimo grido quindi è una macchina media che gli utenti hanno tranquillamente sulle loro scrivanie è un core 2-2 quindi per ottenere questa performance non è necessario avere una macchina di ultimissima generazione ecco questa è una cosa molto importante ecco quindi ulteriore punto in più per photoshop che addirittura è più performante del monitoraggio attività cioè una cosa straordinaria va bene Matteo noi ti ringraziamo veramente tanto è stata una bella chiacchierata come al solito sei sempre strachiarissimo grazie per la disponibilità grazie anche ad Alessia di Barson che ci tiene costantemente aggiornati e in contatto voi non la vedete ma è lì sotto che sta schiacciando qualche tastino dietro ad Adobe Connect l'appuntamento è come diceva Matteo rinnovato su adobe.com adobe.it su labs.adobe.com e ovviamente su totalfotoshop.com grazie ancora ciao a presto ciao grazie a voi